L'ho detto e lo ridico, ci troviamo al cospetto di un subdolo inganno. Per un verso la destra liberista del danaro deporta africani con un solo obiettivo, il profitto. Essa infatti, mediante la deportazione di africani, ha schiavi a basso costo da sfruttare senza diritti e senza alcuna limitazione. Di più, mediante suddetta deportazione, può in generale abbassare i costi e le condizioni della forza lavoro sul continente europeo, sia migrante sia autoctona. Per un altro verso, invece, la sinistra libertaria del costume, che ha abbandonato la lotta di classe marxiana e gramsciana e si è consegnata interamente al servizio della classe dominante, non lotta contro questi processi, non denunzia i processi di deportazione chiamati pudicamente immigrazione di massa per quello che realmente sono, ossia per il trionfo illimitato della classe dominante turbocapitalistica che vince in maniera clamorosa sulle classi lavoratrici, autoctone e migranti. Niente affatto. La sinistra libertaria del costume, che è il completamento culturale e simbolico della destra liberista del danaro, fa l'elogio illimitato dell'immigrazione di massa come ottava maraviglia del mondo. Con stile lacrimevole ripete che occorre accogliere e integrare i migranti, senza nulla dire rispetto al vieco traffico di vite umane, senza nulla dire rispetto all'orrendo schiavismo sotteso ai processi di immigrazione di massa, senza nulla dire rispetto alla lotta di classe che si giova da parte dei dominanti anche e soprattutto dell'immigrazione di massa come immenso esercito industriale di riserva. Niente affatto. La sinistra libertaria del costume, che ha abbandonato Carlo Marx per aderire al sacro verbo dei nuovi architetti del mondialismo e dei pedagoghi della globalizzazione infelice, fa l'elogio dell'immigrazione di massa e anzi condanna in maniera inappellabile chiunque osi denunziarne la reale essenza di deportazione di esseri umani a beneficio delle classi dominanti. L'ho detto e lo ridico, la chiamano immigrazione di massa, è in realtà deportazione di massa, è il nuovo schiavismo nell'epoca del turbocapitalismo San Frontier, non più un colonialismo che si svolge in loco sfruttando gli africani nella loro terra come avveniva in forme ignobili con il vecchio imperialismo. Il nuovo imperialismo altrettanto ignobile deporta esseri umani dall'Africa destabilizzandone i paesi con l'umanitarismo dei bombardamenti e con l'interventismo umanitario delle bombe intelligenti. E in tal guisa fa sì che essi migranti debbano fuggire dalle loro terre per essere accolti benevolmente, ossia per essere spietatamente sfruttati, nel cuore delle megalopoli occidentali europee falsamente chiamate civili rispetto all'Africa. Questa è l'essenza della nuova deportazione di massa, questo è l'orizzonte nel quale ci troviamo. Destra del danaro liberista e sinistra libertaria del costume procedono separate ma colpiscono insieme. Difendono e tutelano sempre e solo l'interesse dei dominanti, delegittimano ogni reazione dal basso che miri all'emancipazione umana in quanto tale.